Abbassamento delle tariffe idriche senza rinunciare agli investimenti. Sarà questo l'obiettivo del neopresidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Enna, Nino Cammarata, eletto nei giorni scorsi dall'Assemblea dei Sindaci. Il sindaco di Piazza Almerina sostituisce il sindaco di Enna, Maurizio Di Pietro. Ascoltiamo la sua dichiarazione a margine dell'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Si è insediato il Consiglio Direttivo dell'ATI, idrico di Enna, composto da sei sindaci sui venti che compongono l'Assemblea Generale. È stata una giornata intensa di interlocuzioni con il Consulente dell'ATI che ha fornito degli elementi ulteriori di approfondimento per arrivare ad una riduzione immediata delle tariffe. È stato un momento di confronto fermo e risoluto con l'ente gestore, al quale abbiamo chiesto un immediato cambio di passo. Nelle prossime ore il CTA si riunirà e immediatamente dopo verrà convocata l'Assemblea di tutti i sindaci per adottare quei provvedimenti necessari al nostro territorio. L'auspicio è quello di arrivare ad una riduzione non intaccando, questa è stata la mia posizione da sempre, gli investimenti sul nostro territorio che significa il rifacimento delle rete idriche, dei depuratori, degli acquedotti, quindi il miglioramento del servizio qualitativo dell'acqua nel nostro territorio con una importantissima ricaduta economica e sociale nel territorio, nell'ultima provincia di Italia.